ciao ragazzi siamo qui nel primo video su insane avalanche fan ragazzi sulle avalanche come cazzo si chiama le valanghe diciamo ecco perché figata raga buttiamo tutto giù autobus camion della birra si che bella mira cerchiamo di uccidere quanta più gente possibile speriamo che nessuno ragazzi che nessuno rimanga sopravviva ecco la mia cazzo di pistola che perfetto poi appena finiamo tutto ci ripariamo di solito ho giocato alcune ho ridotto in portiglia di george ottimo così anche the cortex attenzione i miei camion sono sempre migliori raga ne ho giocati da altri di avalanche però non con c'è di spararò il cecchino tipo con altra o altre robe invece così è più divertente perché c'è anche una ci deve essere anche un'abilità nel riuscire a sparare in questo problema che se ragà se qualcuno ce la fa a sopravvivere fottutamente fu quanti ne restano ancora uno solo la casa resta lui qui non si può era dov'è lui non si può vedere forse lì giù lui ora resta qui o cazzo raga sta qui dove cazzo e ragazzi eccolo qui o cazzo raga o cazzo raga ci ha lanciato alzi o cazzo ragazzi no c'è ucciso ecco nella parte ma porca eva ragazzi ci ha fottuti ha 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 ebbè complimenti a te con l'outilations bro passiamo subito al nostro round eccoci qui al secondo ragazzi è già cade già cade roba ragazzi come ha fatto questo a salvare come cazzo lo dobbiamo fare per salvarci porca eva sali di qui non sale non sale ragazzi dobbiamo riuscire a salvarci qui di così ok qua siamo tranquilli troviamo comunque iniziamo a salire però la vedo dura eh io faccio andare prima loro ragazzi qui o cazzo o cazzo 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 come mi sono salvato questo è morto addio compagno no 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 mamma mia ragazzi epico siamo io il mio compagno ti affronto dove cazzo va e qua no non mi uccidere non mi uccidere non mi prende no ragazzi no no porca eva ragazzi stiamo quasi per riuscire ma per pochissimo spero che il compagno sia solo vissuto no hanno vinto loro ma non raga purtroppo ne siamo anche in inferiorità numerica siamo tre contro quattro porca passiamo subito all'altro round dai eccoci qui purtroppo sono a tre round chi vince tre round ha vinto quindi raga questo lo dobbiamo per forza vincere siamo siamo già perdenti dobbiamo buttare quanta più roba insieme possibile così raga loro avranno tantissima roba da addosso e quindi sarà molto più difficile sopravvivere ok preso questo preso questo prendiamo i situbi li ho mancati incredibilmente ok prendi sto pullman dai ottimo così abbiamo ridotto in poltia fabio caria the cortex pure ci manca chi ragazzi ci manca l'ultimo ci manca the george dai mori dai mori devi morire per forza buttiamo quanta più roba possibile giù raga non riesco a prendere qualcosa di merdo pure prima non e via è morto anche the george li ho uccisi tutti io non so come ma li ho uccisi tutti io bene così prendiamoci la rivincita andiamo a vincere il round da corridoria quattro uccisioni e zero morti non so come ma eccoci qui ragazzi al terzo io inizio già a salire cerco di guadagnare tempo raga cerco di guadagnare soprattutto anche se ci sono cinque minuti tempo ci sarebbe per salire però non so se questa è la miglior tattica quella di salire così veloce ma ci provo ci provo allora di qui stanno scendendo sulla destra ma che mi trolla questo coso rosso no cazzo ragazzi già sono morto salvati 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 guarda che sfortuna salvati salvati ottimo ragazzi non siamo morti no si siamo salvi ragazzi non so siamo salvi no non mi cadere no madonna ragazzi per pochissimo oh my god oh my god che mi trolla questa cosa mi trovano oh mio dio ragazzi che cazzo stiamo scansando qui sono quasi finiti oggetti siamo quasi a metà degli oggetti no sono morto madonna porca eva e non potevo andare nessuna parte mi ha chiuso tutte le strade ero l'ultimo rimasto in vita che sfortuna raga se vi è piaciuto questo lts questo avalanche questa valanga io posso portarvi altri video del genere per me è un piacere perché sono divertentissimo fatemi sapere nei commenti lasciate arriviamo almeno a mille like cazzo ragazzi arriviamoci a questi mille like ringrazio tutti i giocatori che hanno partecipato al video alla lts ci vediamo al prossimo video falò